La villa comunale di Roseto degli Abruzzi torna a disposizione della comunità. Il comune è proprietaria della villa dal 1974, un parco al centro della città a due passi dal Tempio dello Sport, l'Arena Quattropalme. Un luogo chiuso per troppi anni ed ora, specialmente in questa caldissima estate, potrà essere luogo di refrigerio all'ombra di piante secolari. Ma non solo, perché da oggi il parco tornerà ad essere anche spazio di riposo e cultura. Questo giardino, questo parco, questo spazio al centro della città è uno spazio che deve vivere, deve vivere per i cittadini, deve vivere per i turisti, deve vivere per gli eventi che sono già iniziati. Abbiamo voluto sancire con questa conferenza stampa questo momento perché vogliamo far percepire come le cose avvengono, non perché per caso, ma avvengono perché c'è un impegno. Da qui a poche settimane, forse qualche mese, riapriremo anche il piano terra che è in fase di collaudo. Insomma, un gran lavoro che messo insieme con la biblioteca comunale restituisce la bellezza di questa rosetta attraente e attrattiva. Peculiarità della villa, le innumerevoli specie arboree, dalle rose alle palme fino ad arrivare ad una pianta secolare di eucalipto. Flora interamente mappata da agronomi specializzati prima della riapertura. Il lavoro è stato importante, abbiamo effettuato un censimento, una convalutazione di stabilità degli alberi, dove ho ritenuto eccessivo ho effettuato un'analisi strumentale sulle piante problematiche che comunque hanno risposto bene.